Il titolo è Il pastore di Erma. L'angelo vestito di pelle bianca, una borsa in mano, un bastone da viaggio, si era presentato alla porta e si era seduto sul divano accanto a lui. Allontana da te la tristezza, che è sorella del dubbio e della collera. Se dividi la mente, la rendi impotente. Ci sono vari tipi di mente. Quelli che il nostro corpo ospita dipendono sempre dal soffio e il più vicino al soffio è l'estremo, oppure anche il primo. Principio di sopravvivenza, ma anche abnegazione. Sembra fatto di opposti. Ed essi si toccano. Spirito di vita, puoi chiamarlo. Antidiavolo. L'uomo diviso è di quel tristo che dicevano Erma il pastore è un vecchio contadino. Va contro lo spirito, lo annienta. L'anima divisa mai nulla potrà chiedere. Chiedete e vi sarà dato anima, mente divisa, di psichia, dell'uomo liperos, il triste, che è la tua, la mia. Ma un vecchio disse Compi così con le tue forze in piena gioia la tua traversata.